Altri? Oliverio, onorevole Invernizio. Non potrei mai, lei lo capisce da sola. Poi l'onorellasia mi accuserebbe come ha fatto ieri, quindi evito. Rondini. Altri? Matarrelli. Ok, mi pare... Onorellasia, non ho altri con le mani alzate, quindi la votazione è chiusa. Presenti 412, votanti 278, a snu di 134, maggioranza 140, fuori 277, contrari 1. La Camera approva, siamo all'articolo 72, se non vi sono richiesti di intervento lo metto ai voti, la votazione è aperta. Patriarca, chi altro non riesce a votare? Braga, votato. Carrozza. Mi pare che a questo punto abbiamo votato tutti. La votazione è chiusa. Presenti 419, votanti 309, a snu di 110, maggioranza 155, fuori 308, contrari 1. La Camera approva, siamo all'articolo 73, se nessuno chiede di intervenire lo metto ai voti, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Simoni. Chi non riesce ancora, oltre a noi, Simoni, che ha votato. Non vedo altre mani alzate, quindi la votazione è chiusa. Presenti 421, votanti 381, a snu di 40, maggioranza 191, fuori 380, contrari 1. La Camera approva, votazione dell'articolo 74. La votazione è aperta. Ci siamo? No. L'Onore del Ruocco. È sempre il problema di prima, l'Onore del Ruocco. Carbone. Bene. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 418, votanti 381.